... che adesso qualche posizione l'ha persa, si volta... Attenzione, una caduta, una caduta intorno alla quindicesima posizione. C'è anche Buassonagel con Peter Sagan che per il momento rimane lì fermo. È arrivato Mark Cavendish affiancando Peter Sagan proprio in questo momento. Prova adesso a partire ancora Van Avermatt sulla sinistra. Parte Van Avermatt sulla sinistra, più a centro strada invece vediamo Philippe Gilbert con Modolo che adesso è in prima posizione con Cavendish. Poi Christophe e Sagan che però è rimasto un po' più indietro. Prova adesso Cavendish ma passa Christophe. Christophe è passato il norvegese ed è Christophe che va a vincere la Milano Sanremo. Edizione numero 105. Alexander Christophe per la prima volta una norvegese dunque alla Milano Sanremo. mi è sembrato Fabian Cancellara in seconda posizione. La prima stretta di mano che riceve Christophe è proprio quella di Fabian Cancellara. La vittoria con Christophe. Un saluto per gli amici che ci stanno seguendo su Rai 3 ma ovviamente continuiamo la nostra diretta su Rai Sport per parlare della vittoria alla Sanremo di Alexander Christophe. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.